ah finalmente è arrivata l'estate con tutto questo calore che fa bene alla pelle dove cazzo è il ventilatore il ventilatore uè cara ti racconto quest'anno andiamo in vacanze insieme stiamo salendo in calami un bel villaggio va bene dai quando vogliamo ci guardiamo sotto poi ti devo prendere un po' Claudio buongiorno vieni con queste vacanze e niente alla fine vado con Fabrizio ah finalmente inizia un'altra bella giornata adesso ah finalmente oh che oh ah finalmente inizia l'estate quindi posso fare la prova costume ah finalmente oggi comincio la prova costume dai a lignaccio ah 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 e anche quest'anno il cazzo oh raga andiamo al mare seee andiamo a comando si oh raga ma andiamo al mare si oh però raga che cazzo ma non avete mai voglia vaffanculo sfaticati io non ci vengo più da mare con voi va ciao raga mi sono scorrotto pure la mia intro benissimo non fa niente non la faccio io la rifacciamo ciao ragazzi sono Fabrizio ciao ragazzi sono Fabrizio ciao ragazzi sono Fabrizio abbiamo finito questo video mi sembra esatto ok allora oggi in collaborazione con il mio dei chi chi è questa persona molto sconosciuta che sta alle cacca di me no non è il tuo cane è il mio è il cane di Fabrizio e dolino po 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 ok ok ragazzi un attimo stoppiamo un attimo Allora raga, una cosa Gamers è fatto veramente male Però comunque spero che tu Non lo farai più questa cosa Spero proprio Ma io non lo sapevo purtroppo Comunque Adesso Gamers è andato un po' a riposarsi Perché si sta facendo un po' male qua Però non è nulla di grave Comunque Pensavo che non ti volevo farti vedere Comunque, vabbè Io mi sono fatto veramente male Se questo ci prova di nuovo Un cartone Se lo ricorda per tutta la vita Comunque ragazzi Qua, qua, qua La schiena fa male La pancia e la schiena fanno più male Poi non me ne sono neanche accorto Grazie al cazzo che mi faccio male Ma tu sei caduto di culo Comunque ragazzi Ci abbiamo messo un'ora e mezza a farlo Per colpa sua che mi ha fatto male Spero arriviamo a 7 like Per questa Per questo tipità 7 like Sì Il mio canale decido io Arriviamo a 7 like per questo video Vi ringrazio ancora tantissimo Per essere arrivati a uno splendido traguardo Dei 100 iscritti E niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao belli Ciao 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 Ciao